L'ultima cosa che ricordiamo benissimo di lui in questo periodo è stata la sparata di una nuova bomba sul caso che quest'estate ha appassionato la cronaca rosa italiana, cioè il divorzio tra Ilari Blasi e Francesco Totti. A tal proposito era stato detto, caro pupone, cara cacciottara, è arrivato il momento di raccontare la verità e aprire il vaso perché avete cominciato voi. E queste sono state le parole appunto di Fabrizio Corona di quando non era sparito via social. Primo scoop è lo screenshot di una richiesta di messaggio da parte dell'account privato Francesco Totti, ma che cosa si siano detti veramente ai due non è dato da saperlo, non lo sappiamo. Corona non ha pubblicato nessuna conversazione, quindi nessuna conversazione tra i due, ma un altro indizio lanciato da Fabrizio poco dopo sparito sui social. Quello sì, quindi una foto di una ragazza con il volto coperto e la didascalia. Uno, Martina. Questo è stato scritto. Ma chi sarebbe, ci chiediamo. Per i più si tratterebbe di una delle presunte amanti di Francesco che nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha confermato la sua storia con Noemi Bocchi. Dopo aver pubblicato la foto di Martina, Fabrizio ha dato qualche dettaglio sull'amante di Hilary Blasi e così è spuntato fuori il nome di Alessio Lapadula, cioè il ballerino di amici, che sui social ha smentito la faccenda dicendo «Fabrizio Corona, ma io ti voglio chiedere, ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Ma perché non vai a lavorare? Come la gente è umile! Perché tanto il tuo momento up è finito, non c'è più, devi solo rassegnarti, trovati un lavoro e non rompere le scatole alla gente che non c'entra niente con le tue cose da bimbo minchia!» Successivamente, dopo il post di fuoco, Fabrizio Corona è sparito da Instagram e ci chiediamo «Ma cosa, caspite, è successo?». A spiegarlo ci ha pensato il suo avvocato a fanpage e ha detto «È il mestiere di Fabrizio e sa quel che fa». È al corrente che quello che pubblica deve avere un riscontro oggettivo e sta attento all'utilizzo dei termini, ma una cosa di cui sono veramente sicuro è che le querele, sì, gliele faranno, ma io questo già l'ho messo in preventivo. E queste sono le parole di lui. Allora, tornando a noi, poi vi saluto e vi ricordate quando era sparito da Instagram? Eh, è spuntato fuori il motivo della sospensione dell'account. Allora, lui ha detto «In un paese come l'Italia, in cui vige libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tantomeno senza comunicarlo in maniera preventiva. Ritengo che sia illegittimo, quindi vedremo cosa fare». Il concetto che chi somministra un servizio possa fare ciò che gli pare è totalmente sbagliato, perché esiste una cosa chiamata «codice civile» e sopra c'è un'altra cosa che si chiama «carta costituzionale». La censura preventiva non è consentita nel nostro ordinamento. Non ho provato a contattarli. Al massimo vi faccio causa. Gli atti di prepotenza non sono tollerabili. E con queste sue parole vi saluto, perché per questa notizia è tutto. Io vi auguro una buona giornata a tutti, poi quando volete lo sapete ci ritroveremo qui per una prossima notizia.